Nonostante gli oltre 7 miliardi di euro di finanziamenti disponibili e i circa 27.000 interventi avviati, le nostre scuole rischiano di rimanere insicure e di pagare bollette troppo care. È il messaggio lanciato da Lega Ambiente durante il primo forum sull'edilizia scolastica, in cui è stato presentato il diciassettesimo rapporto ecosistema scuola. L'analisi, condotta sul patrimonio edilizio nelle città capoluogo e sull'efficacia degli strumenti finanziari di programmazione messi in campo, fotografa un grande ritardo nell'avvio delle opere di riqualificazione relativi all'adeguamento sismico e all'efficientamento energetico delle scuole, dovuto anche all'incapacità dei comuni di accedere ai bandi. Negli ultimi dieci anni, infatti, solo il 9% degli interventi condotti su 43.000 edifici scolastici ha riguardato sicurezza ed efficienza, con un grande divario del nord a discapito del sud. Le chiavi per accelerare la riqualificazione del patrimonio? Lega Ambiente suggerisce il completamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica entro il 2020, in modo da disporre delle informazioni sulle certificazioni di ogni edificio, un cambio di ruolo per la struttura di missione presso la presidenza del Consiglio, per offrire maggiori competenze tecniche ai comuni per l'accesso ai bandi e infine ridurre e semplificare le linee di finanziamento. Le risorse finalmente ci sono, bisogna che vengano spese e che vengano spese bene. Io penso che tenere separate alcune questioni è un errore. Quando metti in mano un edificio scolastico, di enorme interesse e di enorme utilità, quando abbiamo il 50% delle scuole che non hanno la certificazione statica, quando abbiamo un consumo energetico nelle scuole che è di un miliardo e 300 milioni di euro all'anno e abbiamo tante altre questioni, quando metti in mano una scuola devi mettere assieme le cose, non devi leggere il problema con l'occhio delle competenze dei ministeri, devi leggere il problema con gli occhi dell'interesse degli studenti, degli insegnanti, del Paese. Vogliamo che ogni scuola che ha bisogno degli interventi possa realizzarli in modo completo e compiuto a partire dagli interventi sulle strutture, quindi sull'antisismica e gli interventi strutturali. Oggi le risorse sono sicuramente ampie, sono maggiori che negli ultimi vent'anni, ecco tanto per fare un paragone. Sono risorse diversificate, quindi per quanto possibile queste vengono messe insieme, quindi in una programmazione unica nazionale, il MIUR gestisce il fondo unico dell'edilizia scolastica, quindi sulla programmazione confluiscono tutte le risorse nazionali, in alcuni casi però sono proprio modalità di finanziamento specifiche, faccio l'esempio dello sblocco del patto di stabilità o delle dergue degli equilibri di bilancio che sono stati accordati a partire dal 2014 agli enti locali, queste sono appunto dergue agli equilibri di bilancio, quindi non sono dei finanziamenti puri ma danno la possibilità agli enti che hanno risorse proprie o hanno delle risorse da debito di poter utilizzare queste risorse. Questo sappiamo che per molto tempo ha bloccato gli enti locali dal fare degli interventi, evidente però che non possono essere messe insieme a risorse di finanziamento puro per gli enti. Allo stesso modo per esempio il fondo Chioto è un fondo rotativo che comunque presuppone la capacità degli enti locali di indebitarsi pur a un tasso agevolatissimo allo 0,25% quindi praticamente niente, però è una modalità di finanziamento specifica e che quindi presuppone un indebitamento degli enti locali. Non tutte possono essere messe insieme ma tante sono già insieme, per esempio i fondi sull'antisismica della protezione civile adesso vengono gestiti anche dal Ministero dell'Istruzione tramite la programmazione. Grazie a tutti!